Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di G News. Apriamo con la cronaca. Tre turisti italiani hanno perso la vita e tre sono rimasti feriti in Bolivia in un incidente che hanno visto coinvolto il bus su cui viaggiavano e successo a Cialapata nella regione dell'Oruro. Le vittime sono la coppia di Romani, Franco Cembran, 53 anni, la sua compagna di origine, Aquilane, Rinaldina Di Stefano, 50enne, Lorenzo Licciardi, 30enne, di Marina, di Monte Marciano, nell'Anconetano, la casa dello schianto in cui sono morte complessivamente nove persone e tra cui l'autista sarebbe l'alta velocità. Vediamo. Sono tre gli italiani deceduti nell'incidente stradale in Bolivia che ha visto un pullman ribaltarsi per l'alta velocità. Altri tre connazionali sono sopravvissuti e hanno ricevuto assistenza dall'ambasciata italiana alla Paz. Nel grave incidente sono stati nove i morti per lo più turisti stranieri. Secondo quanto si è appreso nelle marche tra le vittime dell'incidente c'è Lorenzo Licciardi, turista di 30 anni, di Marina, di Monte Marciano. Lavorava come idraulico a Senigallia, viveva con i genitori a Marina, ma al rientro dalla vacanza che sognava da tempo sarebbe andato a stare da solo. L'altra vittima è una donna di origine aquilane, Rinalda Di Stefano, geologa dell'ISPRA, 50enne, che vive in Roma, originaria di Cagnano a Miterno. È morto con lei anche il marito, Franco Cembran, 53 anni. La donna si era trasferita nella capitale 25 anni fa, ma tornava spesso in Abruzzo a trovare la madre e le sorelle. I feriti, secondo l'agenzia di stampa boliviana, sarebbero almeno 24, alcuni dei quali gravi. Il comandante locale di polizia, Gonzalo Carrasco, ha precisato che l'incidente è avvenuto fra Potosi e Oruro sulla strada panamericana in direzione della capitale boliviana La Paz, a circa 35 chilometri dalla località di Cialapata. Il pullman era affittato all'impresa Trans Turismo Omar, il conducente boliviano, e fra i nove morti. Fra le nazionalità delle persone coinvolte, citate dalla polizia boliviana, oltre ai tre italiani, si parla di tedeschi, svizzeri, brasiliani, canadesi, australiani, peruviani e boliviani. Le salme, scrive l'agenzia, sono state portate all'ospedale San Juan de Dios di Cialapata. Ancora cronaca, un agricoltore di 26 anni, di torricella sicura, è rimasto incastrato stamani sotto al trattore che guidava. Il mezzo agricolo si è inclinato sul lato, intrappolando il giovane che ha riportato la frattura della caviglia. Per liberarlo dal trattore sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sollevato parzialmente il mezzo utilizzando cuscini ad aria in modo da consentire di estrarre la gamba. Il 26enne è stato trasportato all'ospedale di Teramo dal 118. Le sue condizioni di salute comunque sono buone. È una tragedia sfiorata poco dopo mezzogiorno lungo la provinciale che collega Giuliano Valta a Montone. Una donna di 23 anni e una bambina di 7 sono rimaste incastrate nell'abitacolo di una Fiat Panda che si è schiantata contro un camion. Ai soccorritori intervenuti sul posto la scena si è presentata drammatica e soltanto quando le due donne sono state estratte dalle lamiere si è potuto ragionare su un bilancio che per molti versi è stato pesantissimo visto la dinamica dello schianto i mezzi coinvolti. La 23enne ha riportato alcune fratture e un trauma cranico. La bambina ha la frattura di una clavicola. Entrambe sono state poi ricoverate all'ospedale di Giulianova. È ancora cronaca ma ci trasferiamo al rapino a Chieti. Colpo all'ufficio postale con inseguimento e sparatoria tra malviventi e carabinieri. Si tratta di tre rapinatori che hanno esploso colpi contro l'auto dei militari infrangendo il finestrino del lato dell'autista. Il militare è rimasto lievemente ferito dalle schegge di vetro. I carabinieri hanno risposto al fuoco. I colpi avrebbero raggiunto il mezzo servito alla fuga dei malviventi e poi abbandonato nelle campagne. Ora è caccia all'uomo. Il bottino sarebbe di 500 euro. Una rapina è stata messa a segno ieri sera all'Eurospin di Via Vestina a Montesilvano Pescara. Poco prima dalla chiusura fissata alle 22 due giovani con il casco si sono fatti consegnare l'incasso dal personale sotto la minaccia di una pistola e sono fuggiti a bordo di una moto. Un testimone che è un amministratore comunale ha fornito ai carabinieri il numero della targa del mezzo risultato poi rubato. Proseguono le indagini e gli accertamenti da parte dei militari dell'arma coordinati dal capitano Enzo Marinelli che attendono di visionare le immagini riprese dalle telecamere. Il bottino in questo caso è stato di 400 euro. E otto feriti, l'unica in condizioni serie, una bambina di sette anni in un maxitamponamento tra otto auto avvenuto lungo il tratto marchigiano della 14 tra Civitanova Marche e Loreto. I feriti sono in gran parte residenti a Rimini, Reggio Emilia e Torino. La piccola di sette anni ha un trauma toracico ed è ricoverata ad Ancona come una neonata e la madre con ferite ma lievemente contuse. E ancora cronaca, andiamo a Martinsicuro. Un grosso coltello da cucina è stato rinvenuto davanti all'abitazione del giudice Marina Tommolini. A Martinsicuro in passato già destinataria di atti intimidatori. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Colombo dove il giudice ora a distanza alla corte di appello di Ancona risiede. Vediamo. Un grosso coltello da cucina è stato rinvenuto davanti all'abitazione del giudice Marina Tommolini a Martinsicuro. In passato già destinataria di atti intimidatori. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Colombo dove il giudice ora a distanza alla corte di appello di Ancona risiede. La scoperta è stata fatta da una vicina di casa che ha notato il grosso coltello posizionato tra il cancello e la recinzione dello stabile dove vive anche il giudice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Martinsicuro e della compagnia di Albadriatica guidati dal capitano Raffaele Iacuzio che indagano sulla vicenda. Resta da vedere se il ritrovamento sia un semplice fatto casuale o un gesto dimostrativo. Nel novembre del 2011 infatti l'auto del giudice posteggiata sotto casa fu data le fiamme quasi in contemporanea con quella del maresciallo del reparto operativo dei carabinieri Spartaco dei Cicco. Oltre all'atto intimidatorio con l'incendio della vettura qualche giorno più tardi, sempre nel novembre del 2011, i gnoti si introdussero all'interno del cortile dell'abitazione che il magistrato divide con i familiari. Episodi che produssero anche un sit-in di colleghi, avvocati, forze dell'ordine a sostegno della stessa Tom Molini. E ora è il maltempo. Temporali, raffiche di vento e occasionali grandinate anche in Abruzzo tra oggi e domani per l'arrivo di un nucleo di aria fredda. Gli inviti alla prudenza rivolti ai cittadini arrivano soprattutto dalle amministrazioni comunali del litorale da Roseto a Montesilvano a Pescara con Pineto pronta ad aprire il centro operativo comunale. L'allerta del centro funzionale della regione Abruzzo si concentra sul rischio idrogeologico come possibili frane superficiali, cadute massi, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Nel frattempo sulla cima del Gran Sasso è tornata la neve. La concessionaria strada dei parchi comunica che per urgenti lavori di manutenzione dalle ore 22 di domani alle ore 6 del giorno successivo sarà chiusa al traffico la strada autostradale tra lo svincolo di Teramo Ovest e lo svincolo di Val Vomano, limitatamente al traffico proveniente dalla Stata all'80 Teramo Ovest e diretto verso l'Aquila Roma, la 25. E torniamo nelle Marche. Al termine di una cerimonia nell'obitorio dell'ospedale di Ascoli, feretri con le salme dei quattro piloti morti nello scontro aereo avvenuto nei cieli ascolani il 19 agosto scorso. Sono partiti poco prima delle 9 stamani alla volta dell'aeroporto di Falconara per essere poi trasferiti alla base aeronautica di Ghedi dove domani mattina si svolgeranno i funerali. Al termine di una breve cerimonia nell'obitorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno i feretri con le salme dei capitani Mariangelo Valentini, Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri e Paolo Piero Franzese, i quattro piloti morti nello scontro aereo avvenuto nei cieli ascolani lo scorso 19 agosto, sono partiti poco prima delle 9 alla volta dell'aeroporto di Falconara per essere trasferiti alla base dell'aeroporto di Ghedi per la camera ardente allestita nel pomeriggio. I funerali si svolgeranno domani alle 11 alla presenza del ministro della difesa Roberta Pinotti. Il vescovo di Ascoli Giovanni D'Ercole ha benedetto le bare e prima che il corteo si mettesse in movimento il generale Maurizio Lodovisi, comandante della squadra aerea, ha paternamente accarezzato uno a uno i feretri che sono stati portati a spalla dalla camera mortuaria dai sei avieri ed hanno ricevuto gli onori di un picchetto in alto uniforme. Presente alla cerimonia, fra gli altri, il sindaco di Ascoli Guido Castelli, il presidente della provincia Piero Celani, rappresentanti di tutte le forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, della protezione civile e del soccorso alpino. Tanti gli ascolali che sono voluti essere presenti per rendere l'ultimo saluto ai quattro piloti. Restiamo nelle marche, ora politica però, i pesaresi chiedono le primarie per la scelta del candidato governatore, il segretario del PD Comi, apre le porte. Numerosa ieri sera la platea per l'incontro, che ha visto protagonisti il segretario regionale del Partito Democratico Francesco Comi, l'ex sindaco Luca Ceriscioli, il parlamentare Marco Marchetti, il segretario democratico pesarese Daniele Vimini. Un confronto che ha spaziato su elezioni 2015, priorità programmatiche e costi della politica al lavoro. Tiene banco la questione della candidatura del centro-sinistra per le elezioni della prossima primavera. Chiede apertamente le primarie Ceriscioli l'unico metodo possibile se non c'è una candidatura condivisa. Comi dice un sì, condizionato, le porte del gruppo dirigente sono spalancate per consentire a tutte le parti del territorio di entrare e contribuire. Il mese di settembre sarà dedicato principalmente a questo. Le primarie si possono attivare in qualsiasi momento, sono l'occasione per legittimare un percorso politico e se non si troverà una leadership condivisa è evidente che vi faremo ricorso, ma prima vengono il programma e la coalizione. E torniamo in Abruzzo a Teramo. Il mistero sulle dimissioni dei cinque componenti del collegio sindacale della Banca di Teramo che ha subito provveduto a convocare l'assemblea dei soci per il 26 settembre nella sala polifunzionale dell'Istituto di Credito Assantatto. All'ordine del giorno della riunione figura appunto la nomina dei componenti del collegio sindacale e la designazione del Presidente. Le motivazioni della convocazione improvvisa sono state illustrate nella lettera pubblicata sulla gazzetta ufficiale dello scorso 30 agosto, da cui si viene a conoscenza appunto che in conseguenza delle dimissioni dei sindaci effettivi, Antonio Bucciarelli, presidente del collegio, Eglio Ciaffi, Alberto Davide, sindaci effettivi, si rende necessario convocare i soci per provvedere all'integrazione dei sindaci effettivi e supplenti. Attualmente i supplenti in carica sono Giuseppe Di Blasio e Paolo Lattanzi. Ora ambiente, restiamo in Abruzzo, discarica di Bussi. Il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, contro il commissario straordinario Adriano Goyo e contessa anche il disinteresse dello stessa Regione Abruzzo avuto in passato, ma in particolari nel servizio. Riordinare e lavorare tutti gli elementi per avere a disposizione un quadro completo sul disastro di Bussi e l'impegno che il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha chiesto stamani a Maria Crocco della Direzione Politica e della Salute della Regione, ad Amedeo Budassi, direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, Francesco Zavattaro, manager della ASL di Chiete, colleghi omologhi di Aquila, Giancarlo Silveri e Pescara, Claudio Damario. D'Alfonso in pratica prende in mano la situazione e chiede un'accelerazione. Ormai di tempo se ne è perso anche troppo, ma il neopresidente, che non ama stare a guardare da indicazioni precise e come al solito tempi strettissimi, tra l'altro il lavoro da fare non dovrebbe essere nemmeno di quelli difficili. Il Presidente chiede ai Cinque di ricostruire tutte le informazioni disponibili a qualsiasi titolo e livello per avere una chiave di lettura completa ed esaustiva sullo spazio inquinante e rilevare dettagliatamente lo spazio sociale e comunitario, scrive D'Alfonso, che ha provveduto le proprie esigenze di attingimento idrico dal giacimento sorgivo e fluviale. Nelle prossime settimane dovranno arrivare risposte chiare da parte del Ministero sul futuro dell'area. La Regione di certo non può farsi trovare impreparata. L'ente, si legge ancora nella missiva firmata da D'Alfonso, non può permettersi di fare da elemento di ornamento passivo, poiché abbiamo l'obbligo di fornire collaborazione avanzata per lo svelamento di ogni responsabilità penale, civile e anche di profilo sociale. Non manca anche una contestazione per quello che è stato fatto prima del suo arrivo, così come non manca neppure una stoccata al supercommissario Adriano Goio. Il suo incarico temporaneo è divenuto decisamente lungo e cosa sia stato prodotto forse è il momento di scoprirlo. Anche D'Alfonso sembra interessato a conoscere cosa sia stato realizzato e in che modo e annuncia che insieme al Genio Civile la Regione si occuperà di ricostruire quantità e qualità degli interventi eseguiti da solerti appaltatori di natura commissariale che, vogliamo sperare, abbiano concorso a risolvere i problemi e non a generarli. Restiamo in Abruzzo e parliamo di cinghiali. La Coldiretti scende sul piede di guerra due giorni dalla comunicazione sulle prime stime dei danni, circa 350 mila euro. La somma complessiva sarà nota a fine anno a culture raccolte nel Terramano. Stime comunicate due giorni fa dagli ambiti territoriali di caccia, Salinello e Vomano che hanno annunciato l'avvio per questa settimana del piano di contenimento dopo il via libera della provincia nelle aree collinarie e montane della stessa provincia. La situazione è diventata insostenibile. Attacca in una nota Coldiretti Terramo. Assistiamo ad un rimpallo di responsabilità che si concretizza in una pericolosissima inerzia istituzionale. Un problema antico, secondo l'associazione di categoria, reso però più urgente dalle condizioni climatiche di quest'estate. È evidente, continua la nota, a firma del presidente Silvana Verdecchia, che non sono bastate le nostre continue prese di posizione e la costante richiesta di collaborazione alle istituzioni preposte a risolvere il problema. E recuperati nella mattinata odierna dal Corpo Forestale dello Stato due magnifici esemplari di rapaci feriti appartenenti alla fauna particolarmente protetta nella provincia di Terramo. Il recupero del rapace notturno, un pullo di civetta, è stato effettuato direttamente dalla pattuglia del comando stazione di Campli che durante un normale giro di servizio ha rinvenuto nei pressi del centro abitato di Bellamte con la collaborazione di un cittadino. Il rapace diurno, invece consistente in un esemplare adulto di Astore, è stato recuperato ferito grazie alla segnalazione di un cittadino dal comando stazione forestale di Arsita lungo la strada provinciale per Colle Marmo nel comune di Bisenti per un trauma da impatto con un'autovettura. Entrambi gli esemplari di rapaci sono stati poi portati al centro recupero rapaci di Pescara, centro di eccellenza regionale del Corpo Forestale dello Stato che è istituzionalmente preposto le cure dei rapaci protetti al loro successivo reinserimento nel loro habitat naturale. E andiamo a San Benedetto, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano di gestione del regolamento della riserva naturale regionale Sentina si è reso necessario l'avvio di una serie di azioni volte alla sensibilizzazione dei fruitori sulle nuove norme finalizzato a sanzionare eventuali comportamenti illeciti. Per questo motivo è stata recentemente rinnovata la convenzione con le guardie ecologiche volontarie della provincia di Ascoli Piceno che già da alcune settimane sono operative sul territorio della riserva. Nella giornata di sabato 10 Gev in collaborazione con il personale della riserva hanno effettuato un sopralluogo congiunto lungo il litorale della riserva Sentina per una massiccia attività di informazione a tutti coloro che erano presenti. Restiamo nelle marche ma andiamo ad Ascoli. L'assessore regionale al lavoro Lucchetti ha convocato per la mattinata dell'8 settembre la scandalora ai sindacati per la procedura di mobilità per 25 esuberi. Il campo è irto di ostacoli, si legge c'è un macigno che va rimosso in una strada condivisibile e possibile afferma l'UGL, il patto produttivo solidale che produce efficientamento e il recupero di competitività dell'azienda è anche il nostro obiettivo ma non va raggiunto con furberie scaricando brutalmente sul salario dei lavoratori il suo costo. La scandolara non può chiedercelo, non ci impiccheremo con la nostra corda e le nostre mani. Ed è stata posticipata al 3 settembre su richiesta della Presidenza della Regione che vuole assicurare una presenza istituzionale alla riunione l'Assemblea dell'Assi, ovvero l'Assemblea dei sindaci del servizio idrico integrato inizialmente prevista per domani 2 settembre. L'Assemblea convocata per l'analisi dei problemi legati alla rete idrica e disagi che si verificano durante il periodo estivo si svolgerà sempre alle 17 nella sala del Consiglio. L'iniziativa assunta dal Presidente della provincia di Teramo Walter Catara, dall'Assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Massimo Vagnoni mira ad un confronto sulle cause dei disservizi e ad un esame delle possibili soluzioni sia in termini di investimenti sia di gestione dell'emergenza. Restiamo in Abruzzo, andiamo a Nereto. L'amministrazione comunale ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione della bretella della strada provinciale 259 in un Consiglio comunale molto infuocato. Infatti sono state ribadite le ragioni di questa amministrazione. Vediamo. Comunicare secondo chi fa comunicazione il modo migliore per approcciare con la gente che poi si dicano cose giuste o sbagliate questo ha un'altra valenza. E' ciò che vi ha spinto a parlare alla gente della famosa bretella di Nereto in un consenso civico aperto? E' proprio questa la motivazione per cui ieri siamo stati in Consiglio comunale qui in Piazza Cavour a parlare con la gente a parlare con le associazioni a parlare con i comitati. Questa mancanza di dialogo tra cittadini e amministrazione penso che ieri abbia avuto una risposta da parte della mia amministrazione. E' stata una bella giornata di democrazia anche partecipata e noi ne siamo soddisfatti. I contenuti sono stati importanti ma penso che per Nereto ieri come ricordo ci sia quello di una giornata tutti insieme a discutere di un problema che in questo momento la cittadinanza sente molto forte la realizzazione di una bretella a fianco al cimitero che indubbiamente dà un po' fastidio. Come andrà a finire? Beh, diciamo che tra domani e dopodomani ci sarà un passaggio che ci ha preannunciato il Comitato a difesa del cimitero molto importante perché depositeranno penso alla Procura, al Prefetto una richiesta di sospensione per contrasto con alcune leggi regionali e nazionali di questo progetto quindi lì interesseranno il Prefetto proprio per sospendere l'inizio dei lavori noi abbiamo dato la disponibilità a seguire questa procedura che inizierà il Comitato e vediamo dove approda noi abbiamo anche lanciato una nostra proposta nel caso in cui i lavori non possono essere bloccati ribadisco noi vogliamo che questa bretella non venga realizzata però se la procedura non può essere fermata noi proponiamo una diminuzione dell'impatto sul paesaggio sull'ambiente da parte di questa bretella ci sederemo con il Comitato con i cittadini per discutere questa nuova soluzione progettuale Torniamo nelle Marche il Comune di San Benedetto del Tronto ricorda che il 30 settembre è il termine per fare domanda per ottenere le agevolazioni di natura sociale per il pagamento della Tasi e della Tari per quanto riguarda la Tasi per i proprietari di abitazione principale e al massimo di una pertinenza che hanno rendita catastale complessiva inferiore a 500 euro un'ISE inferiore a 10.000 euro è prevista una detrazione di 211 euro fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per coloro che hanno una rendita catastale sempre inferiore a 500 euro un'ISE inferiore a 12.000 euro è invece prevista una detrazione del 30% della Tasi dovuta per quanto riguarda la Tari la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è concessa una detrazione del 30% dell'importo dovuta a tutte le famiglie che hanno un'ISE inferiore a 10.000 euro e andiamo a Giulianova il Comitato di Quartiere Annunziata ha convocato un'assemblea per domani martedì 2 settembre alle ore 21 nella sala Centro Socioculturale in via dei Pioppi si discuterà dei problemi del quartiere alla presenza del sindaco Francesco Mastromauro degli assessori e dei consiglieri comunali l'assemblea sarà aperta naturalmente a tutti i cittadini e da Giulianova a Martinsicuro le attrezzature di servizio alla balneazione vanno realizzate ad almeno 100 metri di distanza dagli scarichi a mare così come prevede la normativa in vicore il rilievo è contenuto nel parere della provincia di Teramo relativamente alla variante del piano demaniale marittimo che è ripreso dal circolo PD di Martinsicuro alla vigilia dell'approvazione definitiva dello strumento di pianificazione degli arenili che approderà appunto in consiglio comunale parliamo ancora di ambiente un censimento condotto a livello nazionale dall'ISPRA sui programmi di educazione ambientale delle aree protette coordinato dall'agenzia regionale parchi regione Lazio fa emergere l'attenzione e l'importanza che il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attribuisce l'educazione alla sostenibilità ambientale dei più giovani in realtà considerato che l'ente ha comunicato esclusivamente i progetti incentrati al tema della biodiversità tralasciando dunque le molte decine di progetti ancorate da altri aspetti dell'area protetta del censimento dell'ISPRA afferma lenta in una nota restituisce anche un indiscutibile primato del parco nel panorama nazionale la rilevazione è stata effettuata su 18 enti di cui 3 parchi nazionali 7 parchi regionali 8 riserve naturali ne risulta che i progetti di educazione ambientale orientata alla sostenibilità nell'area tematica biodiversità realizzati nel 2013 sono stati 136 ripartiti tra 14 soggetti 4 enti parco non risultano avere svolto progetti educativi sul tema nel periodo di riferimento ora parliamo di economia i saldi estivi si chiudono con un calo delle vendite dell'8% rispetto al 2013 i dati sono del Codacons vediamo i saldi estivi si chiudono con il segno meno le vendite di fine stagione hanno registrato una riduzione media compresa tra il 5 e l'8% rispetto al 2013 stando i dati raccolti dal Codacons le speranze riposte dai commercianti nelle vendite a prezzi scontati iniziate nelle varie città italiane il 5 luglio e terminate in questi giorni sono rimaste disattese il bonus da 80 euro in busta paga introdotto dal governo Renzi non ha fatto il miracolo e non ha spinto in alto le vendite in regime di saldi afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi il settore dell'abbigliamento soffre in modo particolare i tagli di spesa operati dalle famiglie che dirottano gli acquisti solo su beni indispensabili e attendono periodi migliori per le altre spese meno di una famiglia su due il 45% circa ha approfittato dei saldi per fare qualche acquisto spiega il Codacons scegliendo principalmente outlet e centri commerciali mentre i negozi situati nelle periferie delle grandi città sono quelli che più di tutti hanno risentito del calo degli acquisti la spesa media pro capite per i saldi non ha superato quota 65 euro ora il premier Renzi deve fare qualcosa per salvare il settore del commercio afferma Rienzi la prima mossa è senza dubbio liberalizzare i saldi così come avviene nel resto del mondo in modo da creare molteplici occasioni d'acquisto per i consumatori spalmate su tutto l'anno e consentire ai negozianti di scegliere quando e come scontare la propria merce per attrarre clientela e restiamo in tema la moda rimane il principale volano dell'economia fermana e ciò che emerge dalla rilevazione di Union Camere che ha esaminato i dati relativi alle esportazioni del settore delle 5 province marchigiane vediamo il sistema moda in provincia di Fermo continua a rivestire un'importanza fondamentale un settore che si è sviluppato nel corso degli ultimi anni superando le insidie della gravissima crisi mondiale con una ricetta che ha tenuto conto del continuo miglioramento qualitativo dei prodotti abbinato ad una spiccata propensione alle esportazioni la conquista di nuove fette di mercato internazionale si è rivelata nel tempo una scelta strategica particolarmente importante secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'Union Camere su dati Istat e analizzate dalla banca di credito cooperativo Picena che le ha diffusi in occasione del MICAM emerge che l'incidenza dell'esportazione del sistema moda in provincia di Fermo si attesta all'84% i dati riferiti alla fine del 2013 mettono in luce che le vendite all'estero sono state in valore assoluto pari a circa un miliardo di euro un dato quello rilevato dal sistema moda in provincia di Fermo di gran lunga superiore a quello delle altre realtà marchigiane la media regionale relativa all'incidenza percentuale dell'esportazione del sistema moda è pari al 23,8% separando il dato e tenendo conto delle varie realtà provinciali emerge che al secondo posto si trova macerato con il 47,6% di incidenza sul totale dei venditi oltre confine seguita da Ascoli Piceno con il 14,4% Ancona con il 6,8% e Pisa con il 9,8% se il dato del Fermano viene confrontato con la media nazionale la differenza è molto più marcata se a Fermo è a superiore l'84% la quota delle esportazioni sul totale delle vendite all'estero del sistema moda a livello nazionale si attesta circa all'11,5% Siamo consapevoli dell'importanza che al sistema della moda nel sistema economico della provincia di Fermo spiega il presidente della banca di credito cooperativo Piceno Rosario Donati ed è per questo motivo che da alcune edizioni abbiamo deciso di seguire l'imprenditore del territorio nelle rassegne internazionali come ad esempio il demicam a Milano All'azienda del distretto della moda del Fermano ha spiegato il direttore generale dell'istituto bancario Piceno Francesco Merletti studiamo sempre nuove forme di finanziamento per supportare adeguatamente le loro strategie di sviluppo e di innovazione sia di prodotto e sia di sistema consapevoli che una crescita deve coinvolgere tutte le realtà del territorio e quindi anche il sistema bancario e in particolar modo la nostra banca che da sempre raccoglie risparmio nell'area e distribuisce tali risorse a favore dello sviluppo socio-economico dell'area Torniamo a parlare della vicenda CIRSU rompe il silenzio l'ex presidente Luciano D'Amico e dà la sua versione dei fatti sul maxidebito da 2 milioni e 250 mila euro accumulato dal consorso di rifiuti nei confronti della DECO e non pagato entro i termini previsti ovvero a fine luglio sulla questione l'attuale responsabile Angelo Di Matteo nei giorni scorsi ha presentato un atto di autotutela in tribunale chiamando in causa la gestione di D'Amico e quella di Lunella Cerconi tra il 2007 e il 2010 questa mattina in conferenza stampa l'attuale rettore dell'Università di Teramo il presidente Alpa ha ricostruito la vicenda del consorzio a partire dalla gara di appalto del 98 per la scelta del socio privato fino alla nascita di Soggesa il braccio operativo del CIRSU che ne deteneva il 51% il 49% in mano al socio privato ASPA e di CIRSU patrimonio nel 2004 qui il primo nodo della vicenda ha spiegato D'Amico si scelse allora di confiare i patrimoni del consorzio di 3 milioni con ricadute per le gestioni successive nel 2008 entra in carica Luciano D'Amico che si alterna con la Cerconi alla guida del CIRSU fino al 2009 i due presidenti si trovano davanti un bilancio 2007 con 7 milioni di fatturato e 5 milioni di perdite per Soggesa la parola d'ordine è salvare dal fallimento Soggese con essa CIRSU e CIRSU patrimonio il piano di salvataggio prevede la ricapitalizzazione di 2 milioni e 500 mila euro e l'ingresso del socio privato le azioni furono fatte pagare ad AIA 10 volte il valore spiega ancora D'Amico proprio per uscire dalla situazione di criticità grazie all'operazione il risanamento porta ad un aumento di fatturato che arriva a 17 milioni ancora nel 2010 mentre la redditività netta segna finalmente il segno più sono gli anni dell'emergenza rifiuti per la provincia il piano D'Amico Cercuoni prevede investimenti in impiantistica e aumento delle volumetrie l'attuale responsabile aggiunge ci accusa di avere occultato le volumetrie allora per favorire il privato non è così visto che solo tra il 2008 e il 2009 abbiamo chiesto e ottenuto 55 mila metri quadri in più restiamo in Abruzzo cambiamo argomento cambio al vertice dell'amministrazione finanziaria dell'Abruzzo il nuovo direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate è Federico Monaco che da oggi subentra alla dottoressa Rossella Rotondo Federico Monaco 54 anni sposato con due figli laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Rome al Ministero delle Finanze dal 1982 dove ha svolto numerosi incarichi professionali di servizio presso il servizio centrale degli ispettori tributari il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria nel 1995 presso il dipartimento delle entrate del Ministero e andiamo a Mociano il corpo di polizia locale si dota di un nuovo strumento operativo nell'ambito del progetto in città in sicurezza infatti il comune di Mociano Sant'Angelo ha acquistato un Fiat Doblo assegnato alla polizia municipale dotato di diversi strumenti l'acquisto è stato possibile grazie al contributo regionale previsto proprio nell'ambito del progetto relativo alle politiche per la coesione sociale la stazione mobile è dotata di strumentazione per l'infortunistica stradale pattugliamento e controllo del territorio controlli con l'etilometro misuratori di velocità servizio di ordine pubblico per manifestazioni fiere eventi sportivi e anche defibrillatore e torniamo a San Benedetto del Tronto in considerazione delle condizioni meteo avverse l'amministrazione comunale e la cooperativa OICOS hanno programmato l'apertura straordinaria del polo museale del mare che fino a mercoledì 3 settembre sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 inoltre sia questa sia la prossima settimana proseguono i tour guidati 4 itinerari che portano residenti e turisti a scoprire l'arte le tradizioni i luoghi più caratteristici di San Benedetto del Tronto parliamo ancora di arte di mostre 5 artisti che provengono da città diverse ma comunate dallo stesso territorio quello dove un tempo vivevano i piceni e questo è il filo conduttore della mostra Tecne in programma a Roma dal 3 al 13 settembre prossimi l'evento patrocinato tra gli altri dal consiglio regionale d'Abruzzo e da Roma capitale è stato presentato questa mattina a Pescara dalla curatrice Laura De Berardinis vediamo città che provengono da città diverse ma accomunate dallo stesso territorio quello dove un tempo vivevano i piceni antica popolazione nota soprattutto per la capacità di creare preziosi manufatti è questo il filo conduttore della mostra Tecne in programma a Roma dal 3 al 13 settembre prossimi l'evento patrocinato tra gli altri dal consiglio regionale dell'Abruzzo e da Roma capitale è stato presentato questa mattina a Pescara dalla curatrice Laura De Berardinis Tecne è il titolo di una mostra collettiva dove esporranno cinque artisti che sono Stefano Buongarzone Marino Menarangelo Luigi Gentile io Laura De Berardinis e Divo Galassi la mostra si svolgerà a Roma dal 3 al 13 settembre nel complesso monumentale di San Salvatore il Lauro grazie anche ad una gentile concessione del pio sodalizio dei Piceni l'11 settembre si organizzerà un happening dove gli artisti si presenteranno anche ai media e naturalmente anche agli amici e ci saranno due momenti specifici alle ore 17 saranno presentati due libri il libro di Marco Marrocco vincitore della Fenice come l'antenna sui passeri e poi ci sarà il libro della sottoscritta Apri gli occhi lady è stato dalla casa editrice ricerche e redazioni alla presentazione della mostra è intervenuto il consigliere regionale del PD di Luciano Monticelli che ha spiegato i motivi per cui il consiglio regionale ha scelto di patrocinare l'evento ma siamo ben felici di essere partner di questa bellissima esperienza in cui l'Abruzzo va nella capitale nella capitale non solo geografica ma anche culturale perché il consiglio regionale la giunta regionale il nuovo presidente della giunta regionale intente la cultura come un momento forte di impegno sociale culturale ma anche di espressione lavorativa perché noi siamo convinti che il mondo dell'arte ha bisogno di una nuova forza un nuovo impulso in quanto bisogna riconoscere chi fa arte come un lavoratore normale di qualsiasi altra attività e quindi tutti gli operatori culturali che suonano che dipingono che scrivono che fanno arte comunque a 360 gradi è nostra intenzione di metterle insieme scrivere una nuova legge quadro sulla cultura perché bisogna evitare la frammentazione dei pochi contributi che purtroppo abbiamo come istituzione e come regione e quindi bisogna scegliere e fare le cose migliori e dal presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio è arrivato un messaggio di buon lavoro agli organizzatori di Tecne a auspico ha sottolineato il presidente che questa mostra che può contare su una cornice espositiva prestigiosa come il complesso monumentale di San Salvatore e Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni possa riscuotere un grande successo e dare un ulteriore valore aggiunto a quel patrimonio artistico, storico e culturale che l'Abruzzo custodisce Torniamo a parlare di lavoro ci trasferiamo di nuovo nelle marche il trasferimento dei dipendenti di Tre Valli dal sito di Ascoli Piceno ex Colac al quartiere generale di Iesi è effettivo da oggi 1 settembre tutti i lavoratori sono stati integrati presso il polo principale in base agli accordi firmati volontariamente tra l'azienda e i dipendenti in questa fase di passaggio abbiamo scelto di tutelare ogni lavoratore dice la dirigenza la cosa più importante è che nessuno sia rimasto a casa senza lavoro e torniamo a parlare di eventi in occasione della festività religiosa di Santa Maria Vico a Sant'Omero nei giorni 5, 6, 7 di settembre l'associazione Sodalizio Cultori di Ercole Ollus organizza una serie di eventi culturali presso il complesso monumentale di Santa Maria Vico si partirà sabato 6 settembre alle ore 10 con un incontro dibattito la presenza di autorità politiche ed accademiche del mondo della cultura e valorizzazione del territorio per presentare lo stato di avanzamento del progetto di recupero e sviluppo del sito archeologico che comprende oltre alla notissima chiesa la casa rurale attigua destinata a diventare un istituto per lo studio dell'arte romanica nel pomeriggio poi sono previste visite guidate gratuite sul territorio giochi popolari e intrattenimento musicale alle 17 presso l'aglio club Val Vibrata dove si svolgerà la benedizione e l'inaugurazione del nuovo campo di volo e le 6 e 7 di settembre torna a Piano Roseto di Crognaleto la fiera della pastorizia il tradizionale appuntamento di raccolta delle greggie momento di riflessione sulle problematiche dell'allevamento pomino e dell'attività di produzione e commercializzazione dei relativi prodotti e torniamo nelle marche a San Benedetto Massimo Ragneri tornerà a San Benedetto infatti il prossimo 29 dicembre l'artista napoletano farà tappa al Palasport Bernardo Spega con Sogno e Sondesto si tratterà del quarto ritorno in Riviera dal 2010 lo spettacolo è dedicato agli ultimi e i sognatori Ragneri alternerà le sue canzoni a quelle dei più celebri cantautori italiani internazionali come De André o Luigi Tenco e ora parliamo di sport torniamo in Val Vibrata riscontri positivi per la quattordicesima edizione del trofeo città di Nereto gara ciclistica su strada riservata alle categorie allievi provinciali e juniores regionali vittoria di Alessandro Marinozzi e Gianmarco Michini vediamo grande successo organizzativo per la quattordicesima edizione del città di Nereto che assegnava anche i titoli provinciali allievi e regionali juniores il primo è andato a Gianmarco Michini nella gara vinta dal marchigiano Alessandro Marinozzi al terzo successo personale sicuro di sé della sua forza il giornissimo atleta ci ha rilasciato questa dichiarazione a caldo ho 16 anni e questa la terza vittoria stagionale con la maglia di campione regionale e niente la corsa è stata una gara tiratissima fin dall'inizio ho provato la fuga in diverse occasioni alla fine sono riuscito a portare via un gruppetto di 6-7 persone poi all'ultimo strappo a circa un chilometro dalla fine ho dato tutto sentivo le gambe che andavano e sono arrivato fino all'arrivo con qualche metro di vantaggio e me la sono avuta qui senti è un percorso impegnativo? sì è un percorso dove c'è pochissima pianura e il ritmo è stato molto alto quindi una gara diciamo estenuante fin dall'inizio la quattordicesima edizione del città di Neveto per gli Uvinores è stata di Matteo Rotondi del team Coratti l'atleta laziale di Aprilia ha percorsi 118 chilometri alla media oraria di 40 e 46 battendo agevolmente in volata il marchigiano Francesco Baldi queste le sue dichiarazioni all'arrivo sì qui avevo già corso l'altro anno sapevo come era il percorso e sono riduce dal Trittico Veneto dove ultimamente ha vinto l'ultima tappa a Fuggiano quindi diciamo la moda controllare era lui infatti già dalle prime azioni ha fatto molto attacchi sono riuscito a tenerli a ruota insomma già c'era il mio compagno avanti in fuga e dopo c'è stata una caduta del suo compagno insomma si è scremato un po' il gruppo e sono partiti alcuni sono riuscito a stare con loro poi abbiamo recuperato la fuga con il mio compagno che purtroppo qui vicino ad arrivo è caduto quindi sono rimasto da solo con gli altri e poi c'era abbastanza collaborazione tra di noi anche perché ci conosciamo bene insomma si collaborava poi c'è stato giusto qualche attacco nel finale nell'ultimo chilometro e poi qui la volata stavo bene sapevo di poterla fare bene e ci sono riuscito una nota di merito all'organizzazione di Mregil Doleli della pedala Sant'Egidiese senza nascondere un pizzico di emozione al termine della doppia corsa si è lasciato sfuggire il suo sogno nel cassetto sulla concretizzazione del quale ascolteremo anche il sindaco di Nereto Giuliano Di Flavio sto portando avanti il suo progetto che voglio fare il camionato italiano a Nereto di Uniors pensavo di farlo fra due o tre anni ma io sto già valutando se riesco a farlo un anno prossimo e quindi già però sono contentissimo è andata bene è stata una bella giornata io a nome dell'amministrazione mi sono immediatamente lanciato nell'idea bene se si parte da oggi fra un anno o fra un anno possiamo avere il campionato italiano e penso che Nereto abbia la tradizione e abbia anche la capacità di organizzare un campionato italiano tutto sta nel partire adesso nel pensarla e si può darsi che ad agosto settembre del prossimo anno avremo il campionato italiano proprio qui a Nereto e voi sarete di intervistarci per la fine della manifestazione dal ciclismo all'atletica e torniamo nelle marche sabato 30 agosto a Monte Cassiano in occasione del memoria Lorenzo Leonardi l'atleta della collection atletica San Benedettese Emma Silvestri ha stabilito la migliore prestazione italiana dei 600 metri della categoria ragazze siglando in un crono d'eccezione un primo e 39 secondi la prestazione è veramente dell'incredibile considerando che la gara di Emma è stata fatta in completa solitudine in quanto il distacco con la seconda è stato di ben 15 secondi quindi la nuova promessa del mezzo fondo femminile italiano ha dovuto fare tutto da sola andando in testa sin dal primo metro ed imponendo il suo ritmo forse nato Emma Silvestri rappresenterà la regione Marche sempre nella gara dei 600 metri nell'ambito della 23esima edizione del trofeo giovanile città di Maiano gara nazionale che la vede come favorita la vittoria bene ora andiamoci a vedere le previsioni del meteo buonasera e ben ritornati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo dell'istituto aeronautico Antonio Chetegli diamo ora uno sguardo alla grafica che ci mostra la situazione generale per quanto riguarda la Panesia italiana come possiamo notare bel tempo cieli al massimo poco nuvolosi per quanto riguarda le regioni settentrionali anche su Liguria Toscana Lazio e Sardegna per quanto riguarda invece le regioni adriatiche avremo mal tempo che sarà diffuso infatti avremo rovesci che saranno anche alternati a momenti con una copertura nuvolosa meno consistente quindi ritornerà al sole per quanto riguarda l'estrema Calabria e Sicilia avremo cieli sereni o al massimo poco nuvolosi diamo ora uno sguardo invece più approfondito per quanto riguarda le regioni Marche e Abruzzo sono del resto conformi con la macro regione centro Italia infatti possiamo notare come il cielo sarà perturbato infatti avremo queste piogge che altereranno sempre a momenti di scherite per quanto riguarda invece le temperature massime da noi previste avremo valori che oscilleranno tra 20 e 23 gradi vi ringraziamo per l'attenzione da Maita Locatelli è tutto al prossimo appuntamento bene per l'informazione è tutto vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione vediamo appuntamento a domani per una nuova edizione di Gnews a tutti davvero una buona serata grazie a tutti